Ha infranto una vetrata a colpi di zappa e poi si è introdotto in uno stabilimento di Macchitella consumando alcol da diverse bottiglie. Per questo un cinquantenne è stato arrestato dai poliziotti del commissariato di Gela. L'uomo aveva già precedenti giudiziari. Così sabato mattina gli uomini dell'equipaggio di una volante intervenuti sul luogo dopo la segnalazione del proprietario che aveva segnalato la presenza di una persona estranea hanno trovato il cinquantenne ubriaco seduto su un divano e sul tavolo bottiglie di alcol trafugate e dallo stesso consumate. La vetrata dello stabilimento ridotta in frantumi. Una volta arrestato dopo le formalità di rito su disposizione del pubblico ministero della procura della Repubblica di Gela è stato condotto agli arresti domiciliari e ora è a disposizione dell'autorità giudiziaria.